Io sapevo che prima o poi sarebbe tornato un gioco di questo tipo sul canale Lo sapevo, me lo sentivo E l'altra sera quando vi ho fatto la storia su Instagram era perché Sapevo che in questo momento avrebbe regalato grandi gioie E sono certo che così sarà Allora, Animal Revolt Battle Simulator in Early Access Gioco uscito da, boh, tre ore Non lo so neanche io da quanto è uscito Ehm, fatto sta che promette tutto benissimo Tutto, tutto A partire da, da... Da, da, le ossa un po' fuori fuoco De, 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 sti... Cosi enormi A, 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 all'omino All'omino qui Ehm, insomma, titolo, titolo che ci regalerà tante gioie Secondo me, e io Allora, il tutorial penso che sia già Ah, la rivolta de... Mamma mia Allora, cominciamo, cominciamo Cominciamo con, con la salvezza degli umani Siamo sicuri di volerlo fare? C'è anche la... c'è anche una storia, no? Dobbiamo privarci forse della possibilità di... Di vedere i umani all'opera No che non ce ne priviamo Eh... Bene Andiamo Start Io, io non so neanche come commentarlo Ma come camminano? Che di... che... che problemi hanno i nostri romani? Perché i romani sono... sono sempre dipinti come qualche... Come esseri con qualche tipo di... di gravissimo ritardo? Vabbè Ehm... che dire Specialmente costoro, ecco Non so se avete odiato questi due Che si stanno intrattenendo In un... in un tango intimissimo Eh, qui c'è... L'altro si è messo lo... Lo scudo come cartella Bene! Beh, direi... direi che il gioco Ehm... può regalare grandi... grandi soddisfazioni Grandi soddisfazioni Io non... non perderei tempo E andrei alla voce numero due Allora, qui... qui ci sono altre unità Che si possono usare Io a questo punto scelgo Slow Mo Che ignoro cosa sia Slow Mo Basta? Ah, ho un limite di 100 Ehm... vabbè Ma... 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 chi è? Ma chi è Slow Mo? Vabbè Ma hanno dei comportamenti Leggermente insensati Ma non se può Ma non se può Dai ragazzi Ma che... Ma poi perché sono fatti a mo' di birillo Tutti quanti Perché se arzano S'abbassano Vabbè Ehm... quindi Sì Annulla la battaglia Beh, io... io a questo punto direi che forse Archie The Archer può essere la chiave del successo Eh Non so voi cosa ne pensate Ma secondo me Questo Archie The Archer Vediamo un po' Archie The Archer Ma poi è benissimo che scappano Mamma mia Che cosa fa questo? Io... io chiedo scusa per quello che sto facendo qui Veramente Perdonatemi Perché io Mi rendo conto che è qualcosa di abominevole Ciò che sto portando sul canale oggi Ma... ma andava fatto Gli sta a fare doppio passo Gli sta a fare doppio passo Lo confonde Bello Allora... io direi a questo punto Scusate Siccome quasi sta facendo troppo per me Ehm... andrei al sandbox Sì Credo che il sandbox sia... sia il luogo ideale Allora... che cosa posso imporre io? Landscape Allora... no no voglio... voglio... voglio un tipo di... Oh... allora... dunque... team 1 Team 1 Uuuuuh... Umani Coward Cole Bold Billy, Angry Joe, Archie The Archer Romano, Slow Mo, Cross Boanego Su, Commando Bo e Rocky Poi... antichi rettiri Titanoboa Machim... Machimosaurus Rex Poi c'è l'anaconda verde E il Crocodile Poi ci sono i primati Il Berserk Wolverilla King Kong Shatterilla Scimitarilla Gorhammer E Goro the Giant Vabbè Goro the Giant è già preso Goro the Giant Pesima è un ragno Lo Scorpione E il Bagarozzo Il Bagarozzo gigante Bene Poi abbiamo i Dinosauri Ce ne sono diversi pure qui Dinosauri Carnivori E... Bestie Armate C'è anche il Cinghiale Esplosivo Vabbè Allora io intanto direi Che potremmo cominciare con un Mirabolante Mirabolante Un veramente un Mirabolantissimo Romani Quanti so Quanti so Facciamo 50 Romani 50 Romani Contro Le Scimmie Le Scimmie C'è sta Wolverilla Wolverilla E Goro the Giant Ce ne avranno 50 Romani A eliminare A eliminare Due primati Scopriamolo Ma come You Lost Già hanno vinto Ma so So forti comunque Sti Romani qua Incredibilmente Chi l'avrebbe mai detto Allora bisogna Allora Ehm Prendiamo Prendiamo il Thor Versione Scimitarilla Uno di ognuno Dai Uno di ognuno Uno di ognuno Shatterilla King Kong E basta Sono tutti Sì 3 2 1 Io non so Come commentare Quello che sto vedendo Ma ti sto lasciando La cacca Questo Quello è catafratto Completamente a terra E' rimasto Questo qua Che lanciava la cacca Sì che adesso Finito Allora Io direi A questo punto Prima di Lasciarvi Perché insomma Il mio povero cuore Non può reggere Tutto ciò Ehm Ma se volessi Ripulire Devo farlo manualmente Sarebbe stato bello Avere un'opzione Per ripulire Di maniera più semplice Ehm No si può Sì si può Oh Vedi che non è Non tutto il mare Viene per nuocere Allora Io direi Di provare A questo punto Il Il Tita Quanto è grosso Fa schifissimo Il titanoba Contro Contro Il Un Triceratopo Tabuto qua Team 2 Triceratopo Ah con Tre skin diverse Fa veramente Schifo 3 2 1 Triceratopo Ti da roba Senza esclusione Di colpi Il titanoba Gli è partito Prima Prima Di Triceratopo E poi La gola Niente Attacca Attacca Triceratopo In punti Mamma mia Mi fa un senso Che voi non avete idea C'ho C'ho i brividi addosso Si calpestano E' una E' una Lotta Ah E' morto E' morta Si Chi ha vinto Non è ben chiaro Chi abbia vinto Ha vinto Il titanoba Chi ha vinto Il titanoba Vero E' una roba Orribilissima Si si Ha vinto il titanoba E allora io Io direi Che a titanoba Gli diamo Gli diamo Un'altra chance Scusate un attimo Rettini antichi Mettiamo Fanno Fanno veramente Schifissimo E' una roba Io non riesco A descrivere Dunque Squadra 1 5 titanoba Squadra 2 Squadra 2 I t-rex Facciamo 2 titanoba Cioè 5 titanoba Contro 3 t-rex 3 2 1 Madre santissima Madre santissima Ma guarda come tirano Sti titanoba Si avvingiano Tutti 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 Mamma mia Un t-rex E' andato Lesso proprio E per adesso Mamma mia Lo attacca Lo attacca Alla testa Uno I t-rex Resistono Però Adesso Eh ma Mi sa che cedono Perché I titanoba Sono guerridissimi E' rimasto Uno solo Eh ma I titanoba Sono ancora Quattro Vabbè Sono tipo L'essere Più Orribile Della storia Dell'umanità La creatura Più oscura Di questo pianeta Il titanoba Ma poi Ma Di quale epoca E' il titanoba Niente E' morto Con l'ultimo Direx Mamma mia Vabbè Io su questa Orribile immagine Vi lascio E Vi invito a farmi sapere Cosa ne pensate Del gioco Se vorreste Vedere di più E eventualmente Che tipo di sconti Potremmo realizzare Fatemi sapere Io resto ovviamente A disposizione E noi ci vediamo Alla prossima